Lascia il mio da sola Quanto anni hai? 21 Quanti? 21 Cosa faccio? Quanto è che stai in Italia? Cosa faccio? Cosa fai qui in Italia? Cosa tu fai? Adesso ti spieghiamo, c'è una bambina che è scomparsa diversi anni fa, che ti somiglia tanto È per questo che ti cerchiamo, perciò se ti fermi un attimo ti fai spiegare, ti facciamo capire, c'è solo, c'è una bambina che è scomparsa tanti anni fa, che ti assomiglia Non voglio parlare Un po' di tempo stai in casa? Un po' di mese Due mesi? Sì, e queste persone mi seguono e mi chiedono domande, mi chiedono di parlare con loro. No, queste persone, lo sai? No! No! Maurizio, però uno dei loro amici, che sia neologico eh Maurizio.